Noi ci siamo mossi assieme al sindaco Luigi Brugnaro per sbloccare la situazione. La prima vicenda è che il comune di Venezia, cioè i nostri concittadini, diventino proprietari di vecchi padiglioni, di quell'area verde che oggi purtroppo è preda di molte persone sbandati, spacciatori di ogni risma, di ogni tipo. Sembra finalmente vicino ad una svolta il futuro dell'area dell'ex Umberto I a Mestre, una ferita aperta nel cuore della città. A pochi passi da Piazza Ferretto, via Circonvallazione, via Ospedale, strade sprofondate con la chiusura delle strutture sanitarie in una condizione di degrado e di criminalità, più volte denunciata dai residenti esasperati ai nostri microfoni. Quel buco che si è aperto con l'abbattimento dell'ospedale ha trasformato una vasta area del centro in una terra di nessuno, ricovero di sbandati e piazza dello spaccio di droga. Ma la soluzione ora potrebbe essere vicina. Stiamo per ottenere le delibere da parte delle banche che tolgono le ipoteche su questi beni, su questi immobili. Fatto questo andremo a Rogito e finalmente i padiglioni Dezottis, Cecchini e l'ex distrito sanitario, eccetera, diventeranno proprietà del Comune di Venezia, nonché quell'area grande, area verde, di 1,8 ettari. Abbiamo firmato una del termine per abbattere tutti quegli immobili abbandonati prima della chiesetta ortodossa, a cui ci sono i presenti di ortodossi di rito greco. Una volta che l'area sarà entrata nella disponibilità del Comune e che saranno effettuate le prime demolizioni, bisognerà reinventare questa zona di mestre. Potrebbero esserci interessi dei privati. La zona è appetibile per chi ha due passi da Piazza Ferretto? Sì, una zona appetibile. Ci possono essere interessi dal punto di vista residenziale, di social housing, ma anche per esempio l'antica scuola ai Battuti ha avanzato una richiesta di interesse strategico per quell'area, perché comunque è il centro della città, con tutti i servizi, che significa spesso dar risposta in maniera concreta e effettiva alle esigenze dei nostri concittadini. Però quello che ci preme di più è riportare ordine, sicurezza e togliere dal degrado un'area che abbiamo ereditato disastrata. Grazie a tutti.